La fotografia più chiara di una foto credo non ci sia nulla, i discorsi possono essere fatti come si vogliono, non credo che sia un fotomontaggio. La fotografia più chiara di una foto credo non ci sia nulla, i discorsi possono essere fatti come si vogliono, non credo che sia un fotomontaggio. La fotografia più chiara di una foto credo non ci sia nulla, i discorsi possono essere fatti come si vogliono, non credo che sia un fotomontaggio. La fotografia più chiara di una foto credo non ci sia nulla, i discorsi possono essere fatti come si vogliono, non credo che sia un fotomontaggio. Grazie a tutti.